Sapri, Salerno. Questa sera alle ore 21, presso il Viale della Spigolatrice, per la rassegna culturale organizzata dal DLF Sapri, verrà presentato il libro di Antonio Pesca, Le Lancette Spezzate. Una significativa occasione di incontro e dialogo sul periodo storico del rapimento di Aldo Moro, che vedrà la partecipazione di Corrado Limongi, dirigente scolastico, Giuseppe Amorelli, avvocato, sarà presente l'autore Antonio Pesca, modera Angelo Carelli, amministratore di LF Sapri.